Perché pregare? La preghiera è il nostro rapporto personale con Dio. È il dialogo di un figlio con il Padre, che è amore. Noi non lo vediamo, ma se preghiamo, sentiamo la sua vicinanza, perché la preghiera apre i cuori e ci aiuta nella scoperta del Padre Celeste attraverso Gesù. Con la preghiera Dio ci dona la pace e ci trasforma, così da avere il Regno dei Cieli nel nostro cuore sulla terra. La preghiera ci dà gioia e questo frutto crescerà sempre più. La preghiera risveglia la nostra anima, così sarà pronta per raccogliere la luce di Gesù risorto. La preghiera fa crescere il senso della fede, ci dona forza e sostegno nei momenti di prova. La preghiera è un'arma contro il male. La preghiera ci fa sentire l'amore e quando l'anima ama, chiama a sé Gesù e lui non rifiuta quelli che lo chiamano e vogliono vivere a sua immagine. La preghiera intensa e perseverante diventa vita. La preghiera fatta con fiducia e col cuore è già accolta. Attendiamo solo i tempi di Dio. La preghiera può cambiare il mondo. Se lo volete, cominciate adesso e siate come una rosa che germoglia presso un torrente. Come incenso spargete buon profumo. Fate sbocciare fiori come il giglio. Alzate la voce e cantate insieme. Benedite il Signore per tutte le sue opere. Magnificate il suo nome e proclamate la sua lode. Pregate, pregate, pregate. Grazie. 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 Grazie a tutti